Smettere definitivamente Parlare e scrivere, ecco le nuove semizie Tutto senza spiegazioni, senza dirti alcuni che All'inizio sarà difficile, poi non te ne accorgerai neppure Potrebbe interessarti in meno questa novità Potrebbe interessarti in meno questa novità Conunciare il mio nome e dire a parlare che non è una vita Anzi ti sorprenderai di quanto affettuose saranno Le minure della frequenza di carezze Volontà di vederti a tutte le ore La necessità quasi vera di legarti e toccarti Potrebbe interessarti in meno questa novità Potrebbe interessarti in meno questa novità Provinciare il mio volo è mentire a parlare che non è una vita